Mi chiamo Pasquale Zizza e sono uno dei ricercatori ipo impegnati quotidianamente nella lotta contro il cancro. I miei progetti di ricerca hanno come obiettivo principale la comprensione dei meccanismi molecolari che sono alla base della formazione e della crescita tumorale e inoltre puntano a identificare dei market tumorali che possono essere bersaglio di nuove terapie. Solo in questo modo attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze potremo sviluppare terapie che siano nuove e efficaci e inoltre che siano mirate al paziente e che non abbiano effetti collaterali significativi. Quella contro i tumori è una lotta impegnativa e molto difficile, ognuno deve fare la sua parte. Dai il 5 per 1000, non costa nulla e insieme vinceremo il cancro. Grazie. Grazie.